Ora è ufficiale, Luciano D'Amico è il candidato governatore per l'Abruzzo del centro-sinistra. Il Placet, sulla figura dell'ex rettore dell'Università di Teramo, già presidente della Società Unica di Trasporto Abruzzese, TUA, è arrivato al termine della riunione della coalizione cui è stato dato il nome di Abruzzo Insieme. Il tavolo, coordinato dal segretario regionale del PD Daniele Marinelli, ha ratificato la scelta di cui si parlava nelle scorse ore e su cui sono tutti d'accordo. DEM, 5 Stelle, più Europa, Socialisti, Italia Viva, il gruppo civico creato dal sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che ha spinto molto per questa scelta. Manca l'appello a azione che ha puntato sull'ex parlamentare Carlo Costantini per la presidenza, ma non è escluso che le interlocuzioni proseguiranno nei prossimi giorni. Quindi D'Amico, 63 anni, docente ordinario di economia aziendale, originario di Torricella Peligna, già in campo 5 anni fa, come aspirante consigliere regionale, nella lista a sostegno del candidato governatore Legnini tenterà l'impegnativa scalata alla regione contro la corazzata guidata da Marco Marsilio. Per Marinelli la missione è possibile, con un patto per l'Abruzzo. Una candidatura forte, autorevole. Noi abbiamo costruito un percorso molto forte sui temi che rappresentano la priorità per l'Abruzzo. Abbiamo aperto un'interlocuzione serrata tra le forze civiche e politiche che appartengono a questo tavolo. Siamo arrivati, credo, ad una scelta davvero molto forte, autorevole, per aprire una stagione nuova per questa regione. C'è stato un passo indietro da parte del PD su Paolucci? Era stata solo pretattica? No, davvero noi dobbiamo essere grati al nostro capogruppo, intanto per il grande lavoro fatto in opposizione in questi cinque anni, per il lavoro di costruzione di Abruzzo Insieme, per il quale si è messo a disposizione in questi mesi, insieme agli altri capigruppo, insieme alle forze civiche e politiche, rispetto al quale ha dato un contributo fondamentale. Dopodiché noi naturalmente abbiamo messo in campo la migliore proposta che avevamo all'interno del Partito Democratico e ci siamo però aperti ad una fase di interlocuzione con le altre forze civiche e politiche e da questa interlocuzione è emersa come personalità più unitaria quella di Luciano D'Amico e credo davvero che sia una scelta molto forte che ci mette appunto in condizione di essere molto competitivi nella battaglia con la destra. ...che fosse necessario attraverso appunto un'interlocuzione tra di noi arrivare alla definizione della proposta più unitaria possibile all'interno di questo... ...